Si chiama Audio Audio Costituzioni 211, è la prima macchina costruita da Enzo Pallari, ma lui non poteva firmare il Pallari del Pallari del Pallari, perché aveva il culo... Ecco il numero 7, 54. Guardate la linea meravigliosa e ovviamente il suono di quei 12 cilindri favolosi. E' un po' di 20 anni, ovvero le macchina costruita da Enzo Pallari del 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 Pallari. E' un po' di 20 Torres. Perchè tutti noi lo diamo! Amadora. Amadora si invempia! Sì, sì, sì. Lombardica, un'altra Ferrari del 250 Monza del 1954, che era stato un momento sperimentale della scuola. Lombardica, un'altra Ferrari, un'altra Ferrari, un'altra Ferrari, un'altra Ferrari. Lombardica, un'altra Ferrari, un'altra Ferrari. Lombardica, 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 un'altra Ferrari.